C'è Trotall? Sì, sì. Come? Sì. Come? Sì. Va bene. Il pezzo è... Acqua la... Eh, è così stare così. Acqua la... È così stare così. Scrappare in a brinca il sollo fresco. Acqua, la... Acqua la... Sì, sì. Va bene, vabbè, vabbè, non ti sia così. C'è un po' di andare in, c'è un po' di andare in... a 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